Alla fine metterò il link, ho già fatto 3-4 video inerenti specificatamente alle auto elettriche parlando della situazione normativa italiana, parlando ovviamente della normativa europea perché come al solito continuo a ripetere che i telegiornali dovrebbero mettere in onda quello che si decide a Bruxelles perché è a Bruxelles che si fa la politica in tutti i sensi perché l'80% delle normative italiane devono sottostare a dei vincoli, a dei paletti, a delle norme a dei riferimenti, a dei limiti che sono decisi a Bruxelles quindi il telegiornale italiano e i giornali italiani dovrebbero parlare enormemente di più di quello che succede a Bruxelles Fatta questa premessa, continuo a parlare di auto elettriche qualche giorno fa ho smentito tutta una serie di dati che hanno stati pubblicati sul Fatto Quotidiano da un giornalista del Fatto Quotidiano, sul Fatto Quotidiano dati che assolutamente non si capisce da dove erano estrapolati io ho mostrato i miei dati che sono quelli di Terna, dell'RSE quindi degli enti totalmente a controllo pubblico e quindi dati super ufficiali adesso vado a continuare a parlare di auto elettriche dandovi subito la videata di quello che è il dato essenziale che smentisce quella che è stata la dichiarazione resa da Marchionne intervistato da Report qualche tempo fa e con la puntata che è andata in onda qualche giorno fa appunto su Report poi vi metterò anche il link della puntata in questione e Marchionne afferma che le auto elettriche inquinano di più emettono di più delle auto tradizionali quelle che diciamo a motore a combustione interna motore a scoppio chiamiamole come vogliamo senza però citare la fonte ora io come ho detto nel promo di un'ora fa vi faccio vedere invece la fonte ufficiale il World Economic Forum che cosa dice in merito all'emissione a ciclo completo delle auto attenzione, sottolineo bene questa dicitura a ciclo completo perché quando si va a verificare qualsiasi prodotto si dovrebbe sempre parlare della sua impronta ecologica del suo inquinamento a ciclo completo quindi da quando nasce a quando muore quindi quando si parla appunto delle emissioni di un determinato prodotto si dovrebbe sempre parlarne a ciclo completo e come vedrete vi faccio vedere esattamente a ciclo completo per cui il dato è assolutamente corretto eccolo qua poi vi faccio vedere naturalmente da dove arriva questo dato e il titolo del rapporto che è di gennaio 2018 quindi assolutamente freschissimo guardate la parte in verde per chi non mastica perfettamente l'inglese questo è un dato basato sulla produzione energetica statunitense statunitense che fra l'altro è anche abbastanza discreta a livello di rinnovabili ma non assolutamente non eccezionale sapete che gli Stati Uniti producono moltissimo anche shell gas che invece è mostruosamente shell gas e shell oil che invece è mostruosamente inefficiente da un punto di vista energetico comunque basata sulla produzione attuale quindi sulla realtà attuale sulla produzione elettrica attuale i veicoli elettrici attualmente rilasciano circa 140 grammi di CO2 per miglio per miglio e un miglio sono 1,6 km comparati ai 330 grammi per miglio di un'auto a combustione interna dove leggete ICE significa Internal Combustion Engine quindi le auto a scoppio sulla destra vedete sottolineato in verde full cycle full cycle quindi quello che vi dicevo prima queste sono le emissioni a ciclo completo e come vedete la colonna più alta sono i motori a scoppio 329 grammi per miglio poi andiamo ai 141 che è il dato attuale il dato attuale che emettono le auto elettriche negli Stati Uniti con la produzione di elettricità statunitense la colonna ancora più bassa 24 è quello a cui possiamo arrivare in tempi abbastanza rapidi rendendo la produzione di elettricità rinnovabile quindi più che rinnovabile carbon free quindi senza emissioni di CO2 mentre 116 è la colonna relativa agli obiettivi 2025 dell'Unione Europea quindi questo è il dato super ufficiale del World Economic Forum che a mio avviso modestissimo smentisce completamente l'affermazione di Sergio Marchionne che diceva che le auto elettriche inquinano di più delle auto a combustione interna questo è il dato appunto del World Economic Forum e tra l'altro il World Economic Forum è un organismo svizzero è sovranazionale e internazionale ma diciamo è a base in Svizzera ed è stato fondato dalla Svizzera e vi faccio vedere che è questo questo è il rapporto da cui ho preso questo dato ed è un dato di gennaio 2018 ecco anche per chi non conosce perfettamente l'inglese ma insomma gennaio 2018 e questo appunto è il rapporto che parla esclusivamente di auto elettriche ecco come vedete auto elettriche per città più intelligenti il futuro dell'energia e della mobilità quindi questi sono i dati che sventiscono decisamente il dottor Sergio Marchionne a mio avviso se poi ovviamente qualcuno mi dimostra il contrario io sono sempre agnostico neutrale e se mi vengono dati dei dati contrari li valutiamo vado avanti perché che non dice solo questo questo rapporto io naturalmente ve lo esemplifico per flash innanzitutto la mobilità scusate qui mi dà un segnale ok se mi date una conferma che siamo ancora in diretta perché il mio smartphone mi aveva detto che non c'era più segnale sembra che siamo in diretta vado avanti allora dicevo entro il 2050 il 70% della popolazione mondiale il 70% vivrà in aree urbane quindi voi capite che la mobilità delle città diventa un tema centrale diventa il tema centrale della sostenibilità delle città perché avremo città enormi e dovremo avere un sistema di logistica e di mobilità decisamente migliore rispetto all'attuale per chi si sta collegando adesso naturalmente sa perfettamente che al termine della diretta avrà tutto il video disponibile dall'inizio vi sto riassumendo appunto il rapporto del World Economic Forum appunto sulle auto elettriche allora ci sono diciamo alcuni punti chiave che vengono sottolineati primo elettrificazione dei trasporti pubblici esattamente quello che dice il Movimento 5 Stelle elettrificazione dei trasporti pubblici è naturalmente più trasporto pubblico più trasporto pubblico e l'integrazione un domani anche di quelli che saranno i veicoli senza pilota i veicoli autonomi i veicoli senza pilota arriveranno 5 10 anni ovviamente non posso non credo che nessuno lo sappia con esattezza però arriveranno già adesso avevo fatto un post tempo fa già adesso in una città italiana c'è un minibus che gira senza conducente quindi è già attivo in fase di sperimentazione ma gira proprio con 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 i passeggeri che salgono regolarmente a bordo naturalmente va implementato il sistema di ricarica che è il punto principale che permetterà ai cittadini di affidarsi a questa nuova tecnologia perché in questo momento naturalmente molte persone sono restie ad acquistare un'auto elettrica principalmente per il discorso che non sono certi di trovare punti di ricarica sufficienti per le loro destinazioni il il World Economic Forum sposa esattamente quello che vi avevo raccontato nei mesi passati e che quindi le auto elettriche non solo riducono le emissioni appunto di CO2 ma serviranno moltissimo alla stabilità della rete e quindi faranno risparmiare la società nel suo complesso perché ottimizzeranno la rete e quindi diminuirà il prezzo della corrente elettrica anche su questo ho fatto più video che di cui poi vi metterò il link appunto youtube basta andare su youtube e scrivere girotto auto elettriche e vi vengono tutti i video che ho fatto nel tema e queste sono cose che vengono assolutamente confermate appunto anche da questo rapporto del World Economic Forum vi faccio vedere anche qui una frase molto significativa eccola qua vedete sottolineata in giallo quindi questi servizi di ricarica che saranno servizi intelligenti appunto bidirezionali bidirezionali ridurranno i costi di ricarica vedete will reduce charging costs per esempio caricando l'automobile quando i prezzi sono bassi ovviamente questo implica la necessità da parte in questo caso del legislatore italiano o meglio ancora dell'autorità per l'energia elettrica il gas che adesso si chiama arerà autorità per la regolazione delle leti di implementare i prezzi dinamici e quindi la demanda response la gestione della domanda anche su questo vi rimando ai miei video precedenti per non ripetere sempre gli stessi concetti quindi l'auto elettrica farà una gestione bidirezionale bidirezionale intanto rispondo a Maria Sindoni grazie Maria mi segui sempre però non diamo informazioni diciamo poco poco pratiche perché certo possiamo mettere i pannelli fotovoltaici sulle auto ma Maria caricherebbero veramente pochissimo caricherebbero veramente pochissimo più del 30% di efficienza il pannello fotovoltaico non può arrivare quindi vorrebbe dire che per ogni metro quadro di superficie coperta io potrei arrivare a massimo a 300 watt ora anche mettendo che ne so 4 metri quadri 5-6 metri quadri di energia elettrica di pannelli solari sull'automobile arriverei a 1 kilowatt 1 kilowatt e mezzo 2 kilowatt ma un'automobile con 2 kilowatt di potenza ovviamente non può non può essere e anche se servisse semplicemente per caricare la batteria sì certamente aiuterebbe aiuterebbe ma non facciamo passare l'informazione che l'auto possa essere autonoma nel senso di caricarsi solamente con i pannelli fotovoltaici i pannelli potranno dare una mano ma ci vogliono come dici tu appunto le batterie e poi ricaricarlo dalla rete ecco quindi come vedete la possibilità per gli operatori di utilizzare le auto in maniera bidirezionale farà proprio dare profitti a chi permetterà questo utilizzo già di questo ve ne ho parlato più volte questa tecnologia V2G che già in questo momento in Danimarca a Copenaghen permette al possessore di un'auto elettrica di incassare 1500 euro all'anno semplicemente perché dà il permesso affinché l'auto elettrica venga utilizzata in maniera bidirezionale quindi sia l'auto elettrica ad aiutare la rete quando la rete è sotto stress andiamo avanti ancora un attimino perché poi tra un po' deve uscire che chiudono gli uffici vi riassumo le cose principali di questo rapporto poi vi metterò ovviamente il link al rapporto in maniera che chiunque se lo potrà leggere l'altro punto principale di svolta sarà il fatto che l'automobile sarà sempre meno un oggetto di proprietà e sempre invece un servizio esattamente come adesso prendo l'autobus sarà sempre più l'autobus il treno la metropolitana sarà sempre più comune prendere l'auto quella in condivisione lo sharing quindi a pagamento un'auto che arriva e mi porta nella mia destinazione perché scenderanno i costi già adesso i costi sono decisamente competitivi scenderanno ancora e quindi il World Economic Forum dice proprio il costo delle auto condivise il costo chilometrico sarà più basso sarà significativamente dicono significativamente significativamente più basso rispetto al possedere l'auto classica a benzina e ugualmente dice entro il 2020 il costo totale dell'auto elettrica sarà paragonabile sarà uguale al costo dell'auto a motore scoppio perché scenderanno moltissimo i costi del rifornimento ma soprattutto scusate i costi dell'auto elettrica in sesso stretto ma soprattutto i costi di manutenzione i costi di manutenzione perché un'auto elettrica è estremamente più semplice rispetto a un'auto a motore scoppio quindi i costi di manutenzione scendono moltissimo già adesso con le auto ibride che sono una via di mezzo voi potete chiedere ai tassisti romani milanesi che hanno acquistato le auto ibride e vi diranno che appunto i costi di manutenzione veramente sono scesi parecchio e se lo dice un tassista che naturalmente di lavoro utilizza l'auto tutto il giorno direi che è un buon punto di riferimento ma a parte questo appunto l'auto elettrica è estremamente più semplice ha un numero di componenti dieci volte inferiori rispetto a un'auto a motore a scoppio e ha un motore elettrico che è diciamo così utilizzabile per più di un milione di chilometri quindi la sua durata è molto più elevata rispetto a un'auto al motore a scoppio altro punto su cui si potrà fare riferimento per velocizzare le ricariche sarà il cambio batterie quindi un'opzione che molti stanno perseguendo naturalmente è la ricarica delle batterie che rimangono comunque fisse nell'automobile un'altra opzione che per esempio potrà essere molto ben sviluppata per gli autobus sarà il cambio batterie quindi l'autobus arriva in stazione gli viene tolto le batterie scariche e gli vengono piazzate immediatamente le batterie cariche quindi con un costo anzi scusate con un tempo di ricarica velocissimo naturalmente poi le batterie scariche verranno chiaramente ricaricate altra cosa importante che ancora non vi avevo spiegato un attimino è il fatto che l'auto elettrica potrà fornire energia anche all'abitazione potrà fornire energia anche all'abitazione quindi si apre un ulteriore un ulteriore mondo di possibilità di scambio di elettricità non solo con la rete ma anche con la propria abitazione e questa è una cosa che già attualmente si può fare poi cifre a livello di risparmio globale questa ve la inquadro perché è talmente grossa come cifra che anche se mi amate alla follia farete fatica a credermi perché è veramente una cifra enorme ecco guardate vi inquadro intanto solo la cifra 2,4 trilioni di dollari ora se io non non fallisco nella mia traduzione dall'inglese 2,4 trilioni significa 2.400 miliardi di dollari 2.400 miliardi di dollari quindi il World Economic Forum dice che grazie all'elettrificazione dei trasporti la decentralizzazione e la digitalizzazione dei trasporti si creerà un circolo virtuoso che amplificherà queste tre singole componenti e questo permetterà di generare più di 2.400 miliardi di dollari di valore a livello complessivo globale per la società e per l'industria entro 2025 quindi è un dato molto molto vicino come come datazione quindi entro 2005 e questo appunto perché verrà incrementata l'efficienza di tutto il sistema logistico trasporti mobilità nel suo complessivo quindi è un dato che veramente dovrebbe far riflettere tutta la politica 2.400 miliardi di risparmio noi come 5 Stelle ci abbiamo già riflettuto e come sapete perfettamente che abbiamo messo nel programma un milione di auto elettriche il prima possibile e tra l'altro è una condizione necessaria se vogliamo centrare gli obiettivi 2030 e anche gli obiettivi della COP21 quindi la salvaguardia dell'ambiente e quindi questo è l'enorme valore di risparmio che si può generare appunto utilizzando la mobilità elettrica chiudo come avevo iniziato per chi di voi si è collegato diciamo non all'inizio chiudo con quello che avevo iniziato è importante ripeterlo il World Economic Forum quindi non un gruppo di estremisti di sinistra né di ambientalisti stima che a tecnologia attuale a tecnologia attuale con il sistema di produzione elettrico attuale loro hanno preso per riferimento gli Stati Uniti l'auto elettrica già adesso già adesso consuma scusate consuma emette il 60% in meno il 60% in meno rispetto all'auto a combustione interna l'auto a combustione interna emette 330 grammi per miglio ricordiamo che un miglio è un chilometro e 600 circa mentre l'auto elettrica attuale emette 141 quindi 60% in meno con la possibilità di arrivare a 24 vedete a 24 quando la generazione elettrica sarà carbon free quindi attualmente 141 contro i 329 dell'auto a combustione interna e quindi con questo chiudo smettendo categoricamente l'affermazione di Sergio Marchionne che l'auto a benzina a combustione interna emetterebbe di meno rispetto all'auto elettrica io non credo che il dottor Marchionne vedrà questo video non ho mai avuto il piacere di conoscerlo d'altronde perché mai il dottor Marchionne dovrebbe conoscermi visto che per 5 anni sono stato semplicemente il capogruppo in commissione industria di un movimento politico che ha avuto il 25% dei voti nel 2013 quindi per 5 anni sono stato capogruppo di questa commissione ho incontrato tutti gli stake tutti i principali stakeholder da Confindustria Confcommercio Terna Eni Enel Finmeccanica Fincantieri ma evidentemente per la FCA non è non è importante dialogare con un gruppo politico che ha preso il 25% nel 2013 adesso vedremo abbiamo preso il 32% vediamo se ci sarà qualche contatto io ribadisco ho un atteggiamento estremamente neutrale con tutti l'abbiamo dichiarato nel programma Energia noi siamo tecnologicamente neutrali guardiamo i fatti guardiamo i dati non abbiamo pregiudiziali assolutamente contro nessuno e riteniamo importante sviluppare una filiera italiana dell'auto elettrica ricordiamo quello che correttamente ha riportato report qualche giorno fa parlando di auto elettriche abbiamo una filiera italiana dell'auto elettrica che conta circa 2.000 imprese con un fatturato complessivo di 40 miliardi di euro quindi non sono bruscolini peccato però che solo il 20% di queste 2.000 imprese sia già coinvolto nella filiera dell'auto elettrica e siccome la filiera dell'auto elettrica è destinata a nostro avviso e non solo a nostro anche delle grandi assicurazioni mondiali e delle delle tre agenzie di rating perché ricordiamolo che un paio d'anni fa un annetto e mezzo fa furono proprio le agenzie di rating a dire attenzione sta arrivando lo tsunami dell'auto elettrica lo definirono proprio uno tsunami e dissero attenzione compagnie petrolifere fate molta attenzione perché l'auto elettrica arriverà come uno tsunami e chi non si farà trovare pronto verrà travolto da questo tsunami quindi io invito tutti gli stakeholder a dialogare con il movimento 5 stelle chi ancora non l'avesse fatto a contattare naturalmente lo staff di luigi contattare i capi gruppo contattare chi hanno piacere di contattare e noi siamo disponibili e non solo siamo coscienti che dobbiamo agevolare la filiera italiana delle auto elettriche per non perdere l'ennesimo treno tecnologico abbiamo perso quello del fotovoltaico abbiamo perso decine di migliaia di posti di lavoro non c'è stata una politica industriale seria in questo senso secondo noi anzi è stata una politica assolutamente deleteria e non vogliamo fare la stessa fine con le auto abbiamo un know-how una tradizione una struttura appunto un tessuto imprenditoriale prontissimo e capacissimo a recepirlo ma non può essere solo il movimento 5 stelle a perseguire questa strada quindi con le altre forze politiche naturalmente dialogheremo siamo tutti in Parlamento quindi ci dialoghiamo comunque tutti i giorni è importante farlo anche con gli stakeholder e gli industriali quindi banalmente umilmente invito tutti a farsi avanti e a portare avanti un dialogo con noi come sempre adesso metterò il link dei vari documenti che ho accennato degli altri video e se avete ritenuto valido questo video condividetelo con i vostri contatti grazie a tutti buona serata grazie a tutti